Uè, non fare il pollo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice CREATOR. Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIUDERONE. DAIE! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi, tornano i video sulle news dopo la pausa di ieri. Sapete che la domenica cerco di caricare qualcosa di diverso, ma oggi ragazzi abbiamo un sacco di novità davvero molto particolari ed interessanti per quello che riguarda il nostro Fortnite. Nel video di oggi ragazzi, intanto vi ricordo che siamo in collaborazione con gli amici del gruppo Telegram Fortnite Italy. Andate a seguirlo, mi raccomando, lo troverete in descrizione. Ma ragazzi, stavo dicendo che nel video di oggi parleremo di un bel po' di novità. Si parlerà ragazzi del nuovo quartiere o quello che potrebbe diventare il nuovo quartiere. Davvero un qualcosa di incredibile, veramente bellissimo. Del nuovo bundle per PS4 uscito in Russia e ragazzi di una nuova skin, o meglio, di alcuni elementi di una nuova skin scoperti proprio da pochissime ore dentro i file di gioco. Intanto voglio ringraziarvi davvero di cuore per utilizzare il mio codice creator xyuderone. Grazie a tutti quelli che lo fanno e mi raccomando, taggatemi nelle storie di Instagram, così vi posso ringraziare. Iscrivetevi in tantissimi al canale e soprattutto... Attivate la campanella per non perdere nessuna news e nessuna delle mie live. Prima ragazzi però, dai raga, la domandina, la domandina voglio proprio farvela, i vostri commenti qua sotto. E la domanda ragazzi è molto interessante. Ma qual è la tua granata preferita? In assoluto, di tutte le granate che ci hanno proposto le dinamiti, le granate normali, le fumogene, le stichi, le esplosive, le impulso, le ballerine. E qual è ragazzi? La mia preferita non è tra quelle che vedete qua disegnate ed è la Klinger. Mi piace davvero tantissimo le Klinger, sono troppo troppo OP. Ditemi qual è la vostra granata preferita e i commenti ovviamente qua sotto. Ma quindi, ciancio alle bande e bando alle ciance, andiamo subito subito ragazzi a vedere Sgradel, il nuovo bundle uscito in Russia per Fortnite con la PS4. Come vedete ragazzi è molto particolare e interessante perché innanzitutto ha una skin che conosciamo benissimo. Vedete il primo bundle che esce con una console con una skin non comune. La skin che si chiama Vigliaca, non mi ricordo il nome, mi sfugge il nome. C'era ieri nello shop in poche parole, c'era il maschio che si... C'ha il nome di un cazzo di animale, non me lo ricordo. Il bundle ragazzi come vedete viene assegnato insieme a 1000 V-Bucks, quindi avremo la skin e avremo 1000 V-Bucks, ma la cosa geniale che hanno fatto i russi ragazzi è proprio questa. Costa 25.999 rubli russi, indicativamente 348 euro, ovviamente parliamo di un prodotto nuovo. I geni hanno messo sulla scatola fuori il codice da grattare per ottenere il bundle. Quindi tu vai lì easy, ti guardi proprio la scatola, sgrattugi via il codice, lo inserisci e chi si compra dopo di te la PlayStation perché vuole la skin e 1000 V-Bucks, arrivederci. Ed è stato un piacere, quindi una news ragazzi, comunque interessante e particolare, che arriva dalle parti di là del mondo. Ma andiamo avanti ed eccola qua ragazzi, eccola qua, l'immagine, anzi le immagini, ne ho un'altra, che vanno a ritrarre quella che sarà una nuova skin. Come andiamo a leggere ragazzi, nelle parti in alto del codice c'è scritto baseball, quindi ragazzi la skin sarà sportiva. Ed ecco qua la seconda immagine, la più interessante, la più incredibile, uno spaccato di quello che secondo me potrebbe essere o il guanto, cioè o il piccone o il backpack. Sono più pensieroso sul piccone perché vedo dei pezzi di grigi che potrebbero unirsi, il guantone, sai che Epic Games è comunque abbastanza brava a fare dei picconi molto molto particolari. Quindi ragazzi, dopo aver ottenuto le skin del rugby, le skin del basket, le skin del calcio, arriveranno anche molto presto le skin del baseball. Staremo a vedere ovviamente quando ne sapremo di più. Ma andiamo avanti ed eccolo qua ragazzi, wow! Fa veramente paura questa immagine, è un'immagine relativa a quello che dovrebbe diventare prestissimo il nuovo quartiere di Fortnite. Non è ancora ufficiale la cosa, ma ho un video intanto da farvi vedere. Guardate un po' ragazzi che roba, un bel tour del quartiere creato dall'utente Prudiz. Lo vedete anche infatti là sotto, ovviamente non italiano come utente, che però ragazzi ha veramente tirato fuori un capolavoro. Guardate, si chiama Scorpion King, il quartiere in questione che ovviamente io mi auguro vada sinceramente ad essere inserito nel quartiere ufficiale del Battle Royale, perché c'è dietro davvero un lavoro molto interessante e sicuramente che ha richiesto parecchie ore di lavoro. Come vedete ragazzi ci sono anche delle case sopra lo Scorpione, una specie di piccola città, cunicoli da tutte le parti, chest in abbondanza, addirittura una copia di jump già piazzate giù che ci starebbero. Non abbiamo mai visto un quartiere che abbia piantate giù le jump, avevamo visto uno dei primi quartieri che aveva le barre dove ti facevano perdere lo scudo, poi non si sono più viste, insomma ragazzi un quartiere davvero molto molto interessante che sicuramente sarà divertentissimo anche da giocare. Ma andiamo avanti ed ecco qua ragazzi un'altra notizia davvero super interessante, una proposta che hanno fatto molti utenti su Reddit, infatti ve l'ho pubblicata, ve l'ho portata nel video perché il post ha riscosso veramente migliaia di condivisioni e di approvazioni, si chiede a Epic Games di fare una leggera modifica durante gli acquisti nello shop e di inserire il tasto conferma dopo che si è premuto sul tasto acquista. Secondo me ci sta, una cosa che non costerà niente a Epic Games da fare, speriamo la prendano davvero in considerazione e la inseriscano nelle prossime patch. Ma parliamo anche ragazzi, qui è bella faccia da Pirlo, allora parliamo anche ragazzi delle note, delle cause legali, vi avevo già parlato di Roberto Svavregel, non mi ricordo come cavolo si chiama, comunque uno dei primi che ha intentato la causa legale contro Epic Games, rivendicando giustamente il suo balletto, il Fresh, che si chiama la Carlton Dance, sapete, faceva parte del cast Willy il Principe di Bel Air negli anni 90, fine anni 80, aveva ritirato tre giorni fa o quattro tutte le accuse, quindi tutta la denuncia era stata ritirata, io vi avevo detto, vedrete che se parte lui parton tutti, sbronk, arriva un tweet interessantissimo dove tutti gli altri, tutte le altre persone che avevano intentato causa ad Epic Games hanno ritirato completamente le accuse, questo per dirvi semplicemente che non si può mettersi contro, puoi avere quanti soldi vuoi, ma metterti contro il colosso attuale mondiale del videogioco non è proprio una scelta giusta, e quindi ragazzi si ritirano dalle denunce tutte le persone che avevano appunto intentato la causa. Chiudo il video di oggi con un'immagine meravigliosa ragazzi, un render fatto da un utente, guardate che spettacolo, vi ricordo questa è l'ultima skin ancora non rilasciata quando abbiamo installato la season 8, le abbiamo viste tutte, in queste due settimane è arrivata la cartuccera, sono arrivate le skin degli azzechi, ne abbiamo viste davvero tantissime, i tipi quelli che sbrindellavano così, quindi questo il soldato ancora manca ragazzi, quindi molto probabilmente speriamo di vederlo presto, anche perché se volete la mia io penso che me lo so però, in queste immagini è davvero meraviglioso, la skin in sé è molto bella e quindi un pensierino probabilmente ce lo farò. Per adesso io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, spero che vi sia piaciuto, mi raccomando codice creator xuderone, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo alle 13 live, ciao!